212 tifosi seguiranno il campo basso a Montegiorgio, tagliandi acquistabili solo in prevendita. Il Lupo dunque avrà i suoi tifosi al seguito, senza limitazioni, sarebbero stati molti di più. L'obiettivo? Centrare il diciassettesimo risultato utile consecutivo, possibilmente vincere per continuare ad alimentare il sogno di rimontare la capolista e tagliare il traguardo della Lega Pro. Cudini e Soci ci credono, il campo basso in forma smaiante, reduce da 11 vittorie e 5 pareggi nelle ultime 16 di campionato. Il tecnico potrà contare sulla migliore formazione all'imbarazzo della scelta in tutti i settori, ma squadra che vince non si cambia e così è facile ipotizzare che a Montegiorgio scenderà in campo lo stesso 11 che ha rifilato tre reti al Porto Sant'Elpidio. Attacco con Alessandro, nove reti per lui, falso 9 con Ailati, Zammarchi e Cogliati, quest'ultimo libero di svariare sul tutto il fronte di attacco. Montegiorgio Campobasso sarà diretta da Matteo Mori di La Spezia. Al Civitelle di Agnone il derby dell'Alto Molise tra Granata e Vasto Girardi, rivelazioni del raggruppamento F. Giornata Granata al Botteghino, non saranno validi abbonamenti e tessere, costo di ingresso 10 euro per locali ospiti e fischio d'inizio alle 15 per permettere un maggiore afflusso di pubblico. Voglio lo stadio pieno, l'appello del presidente dell'Agnonese Marco Colaizzo. Granata con Frabotta al centro della difesa e Convoiacco e Allegra in cabina di regia, Viscovic in attacco a costa, punta centrale del 3-5-2 di Pizzi e Rullo che devono decidere il partner di attacco dello Spilungone argentino. In discesa le quotazioni di Amaia, in pole position c'è Cone, un passo dietro Minacori e Dercole. Intanto è stato accolto il ricorso per la squalifica di Minicucci, stop ridotto a due giornate, ricorso curato dallo storico segretario Antonio Melloni. Sull'altro fronte Farine alle prese con l'emergenza in difesa per l'assenza di Vladimir Mikhailovsky, squalificato per tre giornate. In rampa di lancio l'ex di turno Matteo Corbo, in mezzo al campo rientra Pesce con Fazio Playmaker e con Di Lullo che dovrebbe partire dalla panchina. In attacco sicuri di indossare una maglia da titolare sono Chiare Matenche e Petrone con uno tra Bruno e Migno a completare il tridente. Il derby sarà arbitrato da Emanuele Tartarone di Frosinone.